Sono sei i casi di positività riscontrati oggi in Abruzzo su un totale di 1.189 tamponi analizzati. Nella giornata di ieri erano stati 25 su 1.157 tamponi analizzati, 2,2%. Questo aumento molto contenuto fa salire a 3.078 i casi di positività al Covid-19. 250 pazienti, meno 13 rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva. 10, meno 2 rispetto a ieri in terapia intensiva. Mentre gli altri 1.453, meno 42 rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASLE. Nel numero di casi positivi sono compresi anche 351 pazienti deceduti, più 3 rispetto a ieri. 1.014 sono i dimessi e i guariti, più 60 rispetto a ieri. Di cui 232 che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al Covid-19 sono diventati asintomatici. E 782 che hanno risolto i sintomi dell'infezione sono risultati negativi in due test consecutivi. Gli attualmente positivi in Abruzzo, calcolati sottraendo al totale dei positivi il numero dei dimessi e dei guariti e dei deceduti, sono 1.713, con una diminuzione di 57 unità rispetto a ieri. Dall'inizio dell'emergenza sono stati eseguiti complessivamente 46.103 test, di cui 40.844 sono risultati negativi. Nel totale dei casi positivi 243 si riferiscono all'ASLE Avezzano-Sulmona-L'Aquila, 769 all'ASLE Lanciano-Vastochieti, 1.423 all'ASLE di Pescara e 643 all'ASLE di Teramo. I sei casi di oggi sono così distribuiti, 3 all'ASLE Lanciano-Vastochieti, 3 all'ASLE di Pescara. Nessuno invece nelle ASLE Avezzano-Sulmona-L'Aquila e Teramo.